Ciao ragazzi, quante volte ti sei chiesto ma quanto dovrò mettere la pressione delle gomme della mia autovettura? Beh, in tantissime autovetture trovate la pressione delle gomme sul vostro sportello dell'auto. Aprite la vostra auto, trovate un'etichetta del genere, che è questa qui. Questa qua è segnata in kilopascal. Se voi guardate, c'è scritto front, rear, front e rear. Qui ti dice, con tre persone e i bagagli, front e rear, devi stare su 230 kilopascal e 230 anteriore e posteriore 230 kilopascal. Il kilopascal, se andiamo a fare una conversione in bar, è comunque 2 barre 3, quindi 2 barre 3 anteriore e 2 barre 3 posteriore. Se invece abbiamo 5 persone carichi di bagagli nella nostra autovettura, ci consiglia di metterla 250 davanti, quindi 2,5 bar, nell'asse anteriore e nell'asse posteriore 2,9 bar, quindi 290 kilopascal. Ragazzi, fatemi sapere se lo sapevate anche voi che avete la pressione delle gomme sulla portiera della vostra autovettura. Ciao ragazzi!